è bella ragazzi in questo nuovo primo video del mio primo canale oggi siamo in compagnia del mio amico alex ciuffreda ho ricevuto una brutta notizia tramite un email che mi è arrivato oggi pomeriggio perché io stamattina non ci sono state quindi ho potuto vedere quello che è successo un email molto brutta perché youtube mi scrive cioè ripetutamente alcune cose che non ho ancora capito il fatto e perché è successo questo fatto beh questo non l'ho ancora capito cioè mi dice che c'è il mio canale vecchio di youtube perché io ho creato un nuovo canale ulteriore di ulteriore di youtube in cui dice che desideriamo informarti che caso di ripetute o gravi violazioni delle nostre norme della community che cosa ho fatto in teme lo vuoi che cosa ho fatto vabbè mi lascio il link della community il tuo account fashion gamer è stato sospeso il che è una grandissima stranzata ma è così che funziona cioè youtube è così cioè non gliene frega un cazzo basta che a busca soldi da rispettare con cazzi da nessuno nel caso questo fatto in grado dopo un'attenda revisione abbiamo appunto che le attività del tuo account io non vede la community che vietano spam truffe e contenuti commerciali nagevoli c'è che contenuti commerciali come tutti che tu spacci però sì ma che c'è nel fatto dello spaccio su youtube quello che dico pure io cercare di vendere droga e bambini sponsorizzando la roba sulla marcia su youtube ammettilo poi tieni presente anzi mi dicono tieni presente che non ti è permesso possedere creare o accedere ad altri account youtube per ulteriori informazioni sulla chiusura dell'account dell'applicazione della norma visita il nostro centro di assistenti c'è io do di stare un posto centro assistente nello scordare proprio perché comunque l'account non lo sono creato e non mi vado a fare non mi manderà alcuno quelli di youtube ma io ce la faccio un bel reclamo perché youtube non capisce non sta capendo un cazzo l'italiano e cristo santo è normale che non cazzo l'italiano sono americani e americani non crescerà più un cazzo di l'italiano quello che sto dicendo vedere deve vedere cazzo di rossi vabbè dice che se desideri presenta un ricorso contro la sospensione inviamo in questo caso sono gli occhi a che mandiamo il nostro il nostro cosiddetto coso faccio responsabilizzarmi su instagram mi trovate alex più feda mi raccomando seguitemi tutti va bene intanto lascio il link giù in descrizione del suo canale chissà quanti verranno a seguire speriamo che ti vengano a seguire ragazzo prossimo fashion blog fashion blog non fashion ma chi se ne frega l'importante ma come faccio a dargli il l'url del canale di youtube sospeso se non ci sta più il canale che va a farlo e poi spiegherò una breve letta scrivi tutti stronzo e decangerato il canale per motivi che non sono inzanzati io non ho fatto niente non mi masturro neanche nello soldo se vuole rifare quindi non lo so cioè non cambiamo in coppita a quel punto a dire sulla dieta mi deve arrivare in questi giorni per fare donato un euro a questo ragazzo per farmi mettere la firma si fatemi una piccola donazione ve lo chiedo perché andiamo e se vuoi donare qualcosa a me non è un problema perché sono un bisogno di sparito comunque io comunque il nome del secondo diciamo secondo canale dominic server trattito basso yt lo troverete che già ha un solo iscritto per il momento non direi che sono iscritto non mi direi che sei tu no e martina oggi sono i padri di cora non mi sono patetico se ti iscrivi da su non sono patetico non posso essere patetico se sono patetico vabbè con questo io vorrei diciamo concludere eppure se un video molto breve ma molto breve che caricherò subito su questo secondo canale quindi ragazzi commentate io la mio obiettivo anche quello di aprire un canale youtube in cui dovrei fare magari video i giochi e stronzate così ma ripariamo pure distro di cazzare chi se ne fa giù in descrizione lascerò tutti i vari link di stan gaming per acquistare giochi scontati così da una piccola percentuale del vostro gioco che comprate va a me ma io i giochi c'è vabbè poi ti spiego tutto dopo il link di schiena se brucio 20 ragazzi di vita c'è il cazzo di cazzo di tanti di toga c'è il cazzo lo sappiamo tutti quanti comunque comunque con questo video io concludo lascio comunque tutti i link in descrizione cioè discord steam instant gaming instagram il canale di instagram suo seguito se volete che vuole fare un video dove scrivere come quella ragazzina come è possibile commentate sotto che lo faccio come è possibile quella che tipo che penso io sì ma come ti permetti porco dio pedofilo aspetta questa pure se un ragazzino che tipo ma chi cazzo sei la sua risa una ragazzina se con questo come non so iscrivetevi al canale lasciate un bel video se volete che la per un canale youtube commentate sotto grazie ciao a tutti i ragazzi ciao belli ciao 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 ciao